Buongiorno a Cassano Magnago, sono stato convocato questo weekend per disputare delle partite con la presentativa D'Area. Oggi abbiamo disputato la prima partita contro i Ferrarin, l'abbiamo vinta, anche se secondo me poteva andare molto meglio perché possiamo fare molto più di quello che abbiamo fatto. Gli schemi che ci sono stati presentati sono stati seguiti abbastanza bene. Sono Riccardo Cordara, provengo da Lembo e Maglio e faccio parte per questo weekend della presentativa D'Area dell'Ord. Questa mattina abbiamo appena pubblicato la partita contro il Cassano Magnago e abbiamo perso però siamo comunque riusciti a tenere a testa per gran parte della partita. Cioè il primo tempo siamo andati, abbiamo perso di uno il primo tempo, ma comunque eravamo lì e anche per metà della ripresa. Poi comunque si è visto ovviamente che il Cassano Magnago è una squadra ben portata e comunque ben affiattata tra i loro. Grazie. Grazie.